Adesso farai la tua vita, non sei più parte della tua famiglia, sei parte del corpo e dell'anima di Roberto. E la tua vita in questo mondo ha, ripeto, una sola visione e un solo compito. Spendersi giorno per giorno per fare felice e dare sicurezza, pienezza, serenità a Roberto. E questo è molto bello perché riesco a vedere questa ricchezza spirituale che uno trasmette all'altro. La vita di Roberta, la vita di Emiliano, che oggi diventano davanti a Dio una sola vita, sono proprio l'occasione di riconoscerli come dono di Dio. Grazie a tutti.